Ciao, Fabio Preti, studente vincente. Oggi è il 6 settembre, per me è una data molto importante. Festeggio i 25 anni di professione. Colgo l'occasione per ringraziare le migliaia di studenti che ho incontrato nelle scuole della nostra provincia, che mi hanno insegnato che cosa vuol dire stare di fronte a dei ragazzi che hanno voglia di fare, di imparare. Poi vorrei ringraziare anche tutte le altre persone che hanno fatto parte di questo lungo cammino e che spero continueranno a farne parte. Grazie di cuore a tutte le persone che ho incontrato e che continuo ad incontrare. Grazie. Fabio Preti, studente vincente.